Allora signori, tu a est, tu a ovest, tu a nord, ecco, la c'era d'arsena, il garage, la porta posteriore. Prendiamo l'ingresso principale. Sì, solo noi due. Sentite, io non me la sento di farmi sparare oggi ragazzi, quindi tenetela sicura alle pistole, forse la troveremo là dentro a infornare pasticcini. Questa è la nostra cliente, si chiama Ellison, è una signora molto perbene, quindi portiamola al sicuro, signori. Ecco qua. Coraggio ragazzo. Il motore è ancora caldo. È ancora caldo. Peroscere il motore. Sì, sì. Sì, sì. Sta zitto. Sta zitto. Sei un po' in anticipo. E tu in ritardo. È tutto finito. Zitta. Non le farà più del male. Non le farà più del male. Chiamate un'ambulanza. Di corsa! Mi dispiace, tesoro. L'abbiamo persa. Perché mandare cinque uomini per uccidere una donna? Ci stavano aspettando. Ci hanno incastrato. È la tua testimone? Sì. Chiama subito, John. Non ha telefono. Dobbiamo entrare in contatto diretto. Dove sta? Atlanta. Muoviamoci allora.